ciao ragazzi un saluto da zebra bianconera allora in questo video di oggi parliamo di juventus roma 3 a 0 in storia di zebra e vi parlo di quel 3 a 0 contro la roma di ludigrassi e primo anno di ludigrassi a roma e il terzo anno di contro la juventus il suo ultimo anno è stata una partita straordinaria bellissima sotto tutti i punti di vista siamo stati cinici veramente abbiamo quando abbiamo colpito in avanti abbiamo segnato fantastica notate qualche differenza sapete quella differenza eccola qua e la sciarpa di juventus bayern e lacuse che mi sono comprate quest'anno prima della partita juventus bayern e lacuse questa bellissima sciarpa me la sono messa oggi non vedete lo stemma della maglia per questo ma questa partita è un atto 3 a 0 e con di bagnare lacuse oggi parliamo di un atto 3 a 0 quello contro la roma del 5 gennaio 2014 giorno dopo il mio compleanno bellissimo davvero festeggiato alla grande quella noi saturano le 102 punti quindi bellissimo allora juventus roma 3 a 0 partita in cui noi all'inizio prima tempo ci siamo chiusi dietro ci siamo chiusi per aspettare cosa faceva la roma quindi attendavamo la roma la roma iniziale dell'attacca e cominciano a vedere due o tre occasioni la nostra difesa amministrata alla grande buffon pura sicurezza di gigi come sempre si 4 noi va da 1 a 0 per a juventus e con un gol di vidal assist di tevez tevez fa l'assist a vidal tevez e teni i paloni in aria la pasta vidal vidal la mette di testa proprio tac su primo paro dei santi sbattuto 1 a 0 per a juventus poi ci sono diverse occasioni per a roma con tiri in porta da fuori specialmente con piani c'è dodò ma noi ma noi manteniamo tutto nella norma non succede niente tutto calcolato non subiamo gore niente finisce primo tempo inizia il secondo tempo punizione di pirlo tac godi bonucci spaccata scivolati spaccata tac la mette dentro il 2 a 0 con dei santi sbattuto 2 a 0 per la juventus bonucci ronardo bonucci con numero 19 poi la roma dopo i 2 a 0 come si può dire si gioca si gioca il tutto per tutto quindi mette in campo una formazione offensiva fa cambi offensivi ma tutto ciò non cambia nulla perché dopo arriva l'espulsione di de rossi chierini chierini che cosa che ha fatto che scatto sulla fascia mamma mia ha fatto una cavaccata allucinante chierini ricordatevi che chierini è un destino sinistro all'inizio della sua cadera cavaccata di chierini la cavaccata arriva quasi in aria di rigore tac sfracciato da de rossi il calcio di punizione per la juventus è rosso per de rossi dopo di che sul calcio di punizione arriva il cross chierini la fa la sponda di testa per bonucci tac braccio di castan altro rosso roma in nove roma è andato in merda in due minuti roma è andato in merda in due minuti e noi facciamo il gol 3 a 0 con mirko vucinic mirko vucinic l'ultimo gol di vucinic nella juventus risale a juventus roma 3 a 0 bene ragazzi e con questa vittoria ce ne eravamo ce ne siamo andati a più 8 sulla roma seconda in classifica quindi bene così ci andiamo avanti e lo scudetto a fine anno sarà il nostro grande ragazzi con questa grandissima stagione questa grandissima partita che dopo il 3 a 0 contro il napoli in casa novembre abbiamo fatto un altro 3 a 0 contro la roma gennaio quindi dice che classe e che partito bene ragazzi con questo è tutto via una buona giornata iscrivetevi al canale a canale iscrivetevi al canale fino alla fine forza juventus buona giornata a tutti ragazzi ciao